benvenuti a tutti in questo nuovissimo video con Vitto e Fanto mio compagno di classe famosissimo ormai niente ci avevo promesso che avevamo fatto faremo 10 minuti di video di brawl se avevamo fatto 6 like nello scorso video ne ho fatte in tour 7 quindi quindi pure speciale con Vitto e siamo pure in chiamare un te due bene adesso giochiamo se mio cugino sparisce dal campo di prova che stai facendo ragazzi niente stavo per aspettarti mettiamo gioca vabbè ma c'era pure bisogno di chiederselo c'era pure bisogno c'era pure bisogno di chiederselo di domandarselo vabbè alla prossima però metti corvo un game un vivo un corvo devi farlo che pelle di super comunque ragazzi dovete capire che abbiamo fatto prima un video da 11 minuti solo e poi un altro video che stavo avendo abbastanza bene perché ho fatto almeno già una win che già era tanta roba una win con loro era già tanta roba e mi sei cancellato che hai avuto troppo spazio che fastidio c'è veramente ragazzi speriamo di non fare tutelose ma che fermo guarda guarda vado a fare gol niente macchillato non avevo fatto caso questo ti prego Vitto no dai un game a zero coppa devi farlo dai lo troppiamo e basta dai ti prego veramente un game un game con qualsiasi ok un game dai dai fan tu resistiamo un game facendo 30 tanto noi dobbiamo due coppe credo tu troppi 9 e io una pippa non hai tutti i torti però allora l'ho vinta una sì e però vediamo se è un mio amico o se un nemico ma credo che sarà uno del mio club perché mi sarà chiedendo in questo momento di giocare con lui sicuramente però vabbè blu rosso non è sempre blu è anche se è il nemico rispetta ah non è come questo eh no no lo so sono sempre sui giochi della supercell però non so sembra uguale vieni qua quanto a giro say che vi faccio facendo cosa a caso vuoi capirlo ma sto facendo con me c'è kido ma no vengo lì per prenderla bello sei schifo non dire mio nome ha 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 chifo comunque di massimo che ne so mio cugino fa schifo massimo fa schifo sto tizio fa schifo che ne so ma non il mio nome va bene scassone ok questo nome va bene è accettabile lanciala bravo è una tavola e se la spina pure e guarda che ce ne fa un'altra ma è troppo forte ragazzi ecco un po di vita non è mio ti giuro ragazzi non commento perché l'ha promesso il mio compagno di classe perché io sto giocando perché sei mio cugino e che ne so chi non ha il destino che c'è un nome oh faccio gol mamma mia che gol mamma mia che gol contro i botto ho fatto gol non ci credo ragazzi cioè ragazzi mi sento c'era fortissimo in questo momento passa allora aspetta ti voglio fare gol a te stavolta prendo coletto sparo al nemico niente fai gol è fatto dai bravo non abbiamo fatta non cambiare metti di gioca non cambiare metti di gioca bravo dai su adesso si winna tutto contro i bot ragazzi c'è messi è già morto il mio compagno di classe e noi messi non ce l'abbiamo su stambul ce l'abbiamo messi su stambul ce l'abbiamo messi qua no e là oh faccio gol ho fatto gol nooo non per un pelo cristiano vabbè su stambul cristiano waldo è top del top cristiano waldo la best skin di bro di edibro istambul è cristiano waldo cristiano waldo è andate livelli è un pezzi è anche quello scherzo però cristiano waldo è ma tu aspetta perchè stai fermo ma è una domanda quanto ti domanda perchè stai fermo non so se lo senti ecco lo sento lo sento lo sento meno male non so se nel video si sente perchè io lo sento pianissimo però se tu lo senti perchè c'ho il telefonino proprio attaccato io devo fare il telefono aiuto sto sparando ma tutti e due non c'è bisogno fidati vinciamo lo stesso vinciamo forti vinciamo forti me l'abbiamo preso qua tranquillo no no non lo metto aiuta comunque il prossimo game è l'ultimo ve lo dico cioè è l'ultimo in questo video poi se vogliamo rifarlo di nuovo bella oooh dov'è la palla dov'è basta basta si fa si fa dai siamo in supplementare se va bene se va bene non ci fanno gol no ragazzi gol mio no no niente mi sa che abbiamo perso no abbiamo perso mamma mia che scarso mai visto un leon così scarso mai visto così scarso mai visto vieni no ero lì vicino no è pareggio questa è pareggio è pareggio mi fai la vicina a fare gol e niente lasciami la palla passalo a me adesso dai perché sei morto oh si 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 mamma mia ho perso 10 anni di vita solo in questo game dai l'ultimo game potremmo game intanto stiamo già 10 minuti tipo stiamo a 9 minuti e 40 però dai si ma si dai ci sta ci sta ci sta mamma mia mi sono fatto malissimo le mani no non sono bocca perché leonna non è cioè uso un bocca tutti o nessuno buca parole ma si può cambiare il nome ma si può cambiare il nome mamma mia c'è super super no e polipo che bel nome super passali qua tieni dai dai no non ci credo vabbè dai oh tripla win ti giuro ci sta un botto tieni no è un fly in tutto qua hai vinta niente ci stagliamo niente sono morto come un pollo sinceramente però dai ragazzi tu stai vinta mi sta ringraziando lo senti meno male no è possibile fare golla oh Dio no vabbè sì si usavo la minottomani con un pochino più avanti la golla l'hai fatto? fatto? niente l'ha passata no vai è morto quello ok ragazzi siamo sempre qua davanti ma riusciamo a fare golla è morto è morto e basta il tuo nome vinto e dai muoviti no ragazzi mi sta per stancare la deck per la connessione per la roba ma chi ce ne friga del tuo nome no ragazzi golla ma tu non posso passare perché non posso controllare Willow io posso controllare leone con la super non Willow e chi cacchio sapeva mamma mia lui ha tirato ma leone sono diventato io quindi golla non è andato cioè vabbè io sono qua dai raga ma guarda che è vinta tanto innanzitutto è vinta perché non ci posso recuperare dai salutate YouTube adesso dai un attimo sono troppo forte ciao iscrivetevi e like ciao è finito il video